Conto alla rovescia per la terza edizione della Fiera del Condominio Sostenibile. L'appuntamento in presenza sarà dal 13 al 15 ottobre all'interno di Villa 40, ospedaletto di Pescantina. L'evento è stato presentato questa mattina nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, che insieme a Virginia Gambino, editore, organizza la manifestazione. A fare gli onori di casa, Andrea Falsirollo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. Siamo partiti da una dimensione provinciale e stiamo arrivando ad avere una dimensione quasi nazionale, ma è tutto dovuto a un contributo continuo dello staff organizzativo, dei partner e anche del legislatore che aiuta ad alimentare con le novità legislative gli argomenti tecnici e legislativi da approfondire, nonché anche le nuove tecnologie. All'evento saranno ospiti fra gli altri esperti dell'Enea e dell'Agenzia delle Entrate. per fare il punto sul superbonus un anno dopo e i dirigenti del Corpo dei Vigili del Fuoco per parlare di sicurezza. Un programma ricco di appuntamenti e ospiti, come sottolinea Matteo Limoni, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. È ormai diventato un appuntamento fisso per coinvolgere e riunire tutti gli operatori di settore che riguardano il mondo del condominio, le riqualificazioni energetiche e anche le costruzioni edili. Abbiamo scelto dei relatori di rilievo che appunto daranno il valore aggiunto ai contenuti formativi di questa fiera. Partiamo il 13 di ottobre con il convegno iniziale sul superbonus, superbonus un anno dopo. Il tema da non sottovalutare per i condomini, come spiega Alessandro Pisanu, coordinatore della Commissione Ingegneri per il Condomini. Non esistono solo le case unifamiliari, ma esistono anche i condomini. I condomini in Italia, per chi non lo sa, sono un milione e duecentomila, quindi veramente un enorme bacino. Attualmente superbonus, da quelli che sono i dati che sono stati presentati dall'Enea, il superbonus è partito in maniera importante nelle abitazioni unifamiliari e bifamiliari. Nei condomini ha iniziato a decollare solamente dal mese di agosto, quando c'è stato il decreto semplificazione e quando sostanzialmente si è presa una strada in questo senso. Noi come Ordini Ingegneri abbiamo colto questa occasione della Fiera del Condominio proprio per riprendere in mano il discorso del superbonus e per in qualche maniera segnalare quelle che sono le criticità ancora presenti, quali sono i risultati finora raggiunti. Ovvio che nulla in questo momento è ancora stabilizzato, però è un'occasione veramente importante per fare chiarezza sotto molti punti in essere. Uno strumento, quello del superbonus, particolarmente apprezzato in Veneto, come evidenziano le ricerche condotte da Federico Della Puppa, coordinatore scientifico del centro studi Utrade. Diciamo che il superbonus è nato per essere utilizzato nei condomini, anche se inizialmente si pensava che fosse stato meno utilizzato per questo, in realtà se andiamo a vedere i dati possiamo vedere che in Italia ad oggi sono 37.000 gli interventi asseverati per il superbonus 110% e di questi solo il 13% riguardano fabbricati condominali, però in realtà questo 13% muove il 47% della spesa. Quindi in realtà lo strumento sta iniziando ad essere utilizzato anche dai condomini ed è un segnale molto molto positivo. Bisogna pensare che questo è uno strumento in divenire, abbiamo saputo da qualche giorno che verrà prorogato il 2023, è uno strumento che soprattutto per i condomini ha bisogno di tempo per fare le scelte, per fare le deliberazioni condominali, però ad esempio lo strumento ad oggi ha già mosso a livello nazionale 5,7 miliardi di investimenti che non è poca cosa in un mercato che sta ripartendo. E da un altro lato bisogna dire che ci sono delle regioni dove lo strumento è molto più utilizzato che in altre regioni, ad esempio il Veneto, la prima regione in Italia, per velocità di utilizzo dello strumento. A livello nazionale abbiamo circa 1,4 interventi ogni mille famiglie, in Veneto siamo a 2,2. Grande entusiasmo per temi, quelli dell'efficientamento, della sostenibilità e della sicurezza del patrimonio immobiliare che generano fiducia anche come volano economico. Questo dà fiducia al mercato, dà fiducia alle imprese, dà fiducia alle banche e si vede veramente un fermento che poi si vede anche dei numeri perché i dati stimati dalla crescita del P del 6% e lo riscontriamo. Noi diciamo 6% ma secondo noi nella nostra zona è un po' più alto perché c'è veramente fiducia e voglia di lavorare.